Domenica al voto in tutto il paese per i cinque quesiti referendari e poi in alcuni comuni per le amministrative. Urne aperte solo domani dalle 7 alle 23. I referendum sono di natura abrogativa e quindi votando sì si opta per il cambiamento della condizione attuale. Con il no si sceglie di mantenere la normativa vigente per la fattispecie toccata dal quesito. Chi andrà al voto riceve dunque cinque schede. La rossa riguarda la cancellazione o meno della legge Severino che sospende o rende incandidabili soggetti condannati. Scheda arancione sulla limitazione delle misure cautelari in particolare con riferimento alla reiterazione del reato. Terzo quesito con scheda gialla e riguarda la separazione delle carriere tra giudici e PM. Col sì i magistrati dovranno scegliere a inizio del percorso lavorativo se svolgere la funzione giudicante o quella di pubblico ministero. Col no resta la possibilità di passare da una funzione all'altra. Scheda grigia per il quarto quesito relativo alla valutazione dei magistrati e la presenza o meno dei membri laici nei consigli giudiziari. Scheda verde per il quinto quesito relativo alle elezioni di componenti togati al CSM e quindi l'abrogazione o meno dell'obbligo di raccogliere almeno 25 firme per candidarsi. Per tutti i quesiti il referendum sarà valido in caso di superamento del quorum del 50% più uno degli aventi diritto. In Abruzzo sono poi 49 i comuni nei quali si andrà al voto per eleggere il sindaco e rinnovare i consigli comunali. 23 in provincia di Chieti, 17 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Teramo. Sono 5, l'Aquila, Spoltore, Ortona, San Salvo e Martinsicuro, quelli con più di 15.000 abitanti nei quali il sindaco viene eletto in caso raccolga il 50% più uno dei voti, altrimenti si va al secondo turno di ballottaggio tra i due candidati più votati. Negli altri comuni sotto i 15.000 abitanti, risponso immediato al primo turno con l'elezione del candidato che raccoglie più preferenze. La sfida più attesa è quella del capoluogo d'Abruzzo. Quattro i candidati, l'uscente Pierluigi Biondi, espressione del centrodestra, la parlamentare Stefania Pezzopane per il centrosinistra, Americo Di Benedetto, sostenuto da liste civiche di ispirazione di centrosinistra e Simona Volpe. In altri due comuni i sindaci uscenti cercano il secondo mandato. A Ortona, Leo Castiglione, se la dovrà vedere con Angelo Di Nardo del centrodestra, Ilario Cocciola, sostenuto da sette liste e Francesco Terra di Ancora Italia. A Martinsicuro vuole il bis Massimo Magnoni, sostenuto da tre liste, che viene insidiato dalle due candidate a sindaco, Simona Lattanzi, anche per lei tre liste, ed Emma Zarroli, una lista. Lasciano Palazzo di Città dopo due mandati, Luciano Di Lorito a spoltore e Tiziana Magnacca a San Salvo. Nel comune in provincia di Pescara i candidati sono Chiara Trulli del centrosinistra, ex assessore della prima giunta di Lorito, e poi tre candidati di ispirazione di centrodestra, che sono Pierpaolo Pace, Marco Della Torre e Nelson Anzoletti. A San Salvo invece sfida fra tre candidati, Emanuela De Nicolis, Fabio Travaglini e Giovanni Mariotti. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti è possibile il voto disgiunto, quindi tracciare un segno su un candidato sindaco e poi un altro su una lista che non è a lui collegata. Nei comuni sopra i 5.000 abitanti si possono esprimere uno o due preferenze. In caso di due bisogna indicare un uomo e una donna. Sotto i 5.000 abitanti al massimo una sola preferenza. Le operazioni di spoglio riguarderanno subito il referendum dalle 14 di lunedì le amministrative.